Aveva organizzato una rete di spaccio nella marca, gestito tra la sua abitazione e da alcuni locali pubblici. I fatti risalgono al 2016. È iniziato il processo a carico di un ex collaboratore di giustizia, 67enne, originario della Campania, e il fratello, 50enne di un ex sindaco dell'Inter, la Trevigiano. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'avvocato Murgia, che difende il 50enne, ha chiesto e ottenuto la derubricazione aglieva entità per la fattispecie imputata al suo cliente. Secondo gli investigatori, il 67enne, dopo il suo trasferimento dalla Campania, avrebbe preso in gestione un pub a preganziola, trasformandolo ben presto in un supermarket della droga. Controllato e pedinato dalla polizia, per lui sono scattate le manette. All'interno di un forno a microonde sono state trovate alcune dosi di stupefacente, soprattutto cocaina. Fa ai clienti, impiegati, professionisti, studenti, ma anche operai. Dopo la condanna, l'ex collaboratore di giustizia non ha però rinunciato agli affari e nonostante l'obbligo di pernotamento nella sua abitazione, ha continuato a spacciare, rifornendosi da un cittadino straniero residente poco distante da lui. Osservato speciale da parte degli uomini della squadra mobile, che hanno continuato a controllare i suoi spostamenti. Nei mesi, il 67enne, ampliato il traffico di droga nella marca, affittava diverse macchine all'aeroporto con il quale si spostava in tutta la provincia. È scattato così il blitz della polizia. All'interno dell'abitazione gli hanno trovato un vero e proprio bazar. A finire nei guai, anche il fratello di un sindaco di un comune del Trevigiano, anche per lui è scattata la perquisizione. Nella sua casa i poliziotti hanno trovato una minima quantità di droga. All'interno dell'abitazione gli hanno trovato una minima quantità di droga.